Hey la Pokéfanatici e benvenuti in questo nuovo video! Io sono TheLars e oggi ci troviamo sul dono segreto di Pokémon Rubino Omega e Zaffiro Alpha, poiché un mio iscritto ha deciso di regalarmi un codice seriale per scaricare Charizard Shiny. Ora, per ricevere questo codice vi basterà andare in un qualsiasi GameStop, avete tempo fino al 19 luglio 2015, quindi ancora più di un mese e mezzo, e voglio ringraziare questo mio fan che ha deciso di regalarmi uno dei suoi codici, ha detto di volersi far chiamare Zeus, quindi lo ringrazio a questo nominativo e ora andiamo a scaricare il nostro Charizard. Tramite codice seriale, ok, ho inserito il codice e adesso aspettiamo che arrivi il dono! Ecco un Charizard cromatico, il regalo per te è un fiammeggiante Charizard cromatico, fallo mega evolvere e rendi incandescente il campo di lotta. Vuoi ricevere questo dono? Certo! Ed ecco qui che arriva il nostro Charizard! Ovviamente Shiny, quindi nero, secondo me è molto bello in questa sua forma. Ritira il tuo dono dalla postina in un centro Pokémon qualsiasi. Eccoci qui nel centro Pokémon, andiamo a parlare con questa tipa, che ci darà appunto il nostro Charizard, e adesso lo andiamo a provare, ovviamente. Eccolo qui a livello 36, vediamo un po' che strumento ha. Allora, con strumento Charizardite Y, avvampata, solo a raggio, fuoco al colpo e mano nella mano. Ok. Ok, vediamo chi sarà lo sfortunato Pokémon che dovrà vedersela contro il mio Charizard. Uno Zigzagoon! Ok, allora, andiamo a fare lotta, mega evoluzione, e direi vampata, poverino. Devo dire che rende parecchio così. Siccità di Charizard. Valore aggiunto. E mi dispiace, ma credo che Zigzagoon non riuscirà tanto a tencare il colpo. Eh no, proprio no. Ok ragazzi, anche questo brevissimo video si conclude qui, ricordatevi di passare da GameStop per prendere il vostro codice personale, avete ancora tempo fino al 19 luglio, vi ricordo. Io vi chiedo di lasciare un bel mi piace se vi sono stato utile, di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, e noi ci vediamo ad un prossimo video. Bye bye! Bye bye!